Buonasera, ben trovati, benvenuti a Fatti e Commenti. Come sempre il giovedì qui da Fano, due ospiti, due parti distinte, nelle quali, come sempre, vedremo le notizie un po' traccianti della giornata attraverso i lanci di agenzia, i siti, il nostro sito, il nostro giornale online, UTVRS, e quindi poi interloqueremo e interagiremo con l'ospite in studio che farà argomento a sé e quindi saluto subito, con grande piacere, una collega, perché rimani una collega, Lara Ottaviani, giornalista. Buongiorno, salve. Ben trovata, ma attualmente assessore del comune di Urbino, con una bella delega, una delle tante, quella della cultura, ma poi ne hai altre, quindi che sono, diciamole tutte così. Allora, assessore alla cultura, assessore allo sviluppo del centro storico, eventi, mobilità e trasporti. Ecco, due rubine giusto così tanto per. Bene, adesso facciamo subito un punto con una notizia che sicuramente fa piacere a tutti e credo anche all'assessore della cultura, perché le Marche Terre del Benessere, istituita la rete regionale a parlare, è Antonini, come vedete qui in questa intervista, Andrea Maria Antonini, assessore allo sviluppo economico, perché, insomma, questa rete è un po' il sunto di tutte le politiche d'impatto sulla salute e sul benessere di una comunità marchigiana che partono dalla sana alimentazione, vanno allo stile di vita, uno stile di vita attivo, insomma, un segno culturale. Io non a caso ho scelto questa notizia per aprire, perché mi allaccio subito con l'assessore. Allora, perché le Marche possono essere, possono ambire ad essere terra del benessere? Al di là del fatto che dal punto di vista anagrafico si campa un po' di più e l'età è un po' più alta, però ci sono delle caratteristiche ben precise, insomma, tu sei assessore in una città patrimonio dell'UNESCO, insomma, abbiamo tante carte da giocarci. Lo ricordiamo che Urbino è l'unico sito UNESCO delle Marche, quindi già mettiamo un puntino adeguato sulle I. Le Marche sono una comunità del benessere, sono un luogo del benessere. Noi d'altronde siamo anche un territorio, quello della provincia di Peser Urbino, che è votato al biologico. E quindi abbiamo già un'impostazione che ci consente di guardare in un modo diverso alla nostra realtà. Se ci mettiamo poi che abbiamo ancora un paesaggio incontaminato, passiamo dal mare alla montagna in poco più di qualche chilometro, diciamolo così, qualche decina di chilometri, possiamo abbracciare una serie di attività, di modi di vita, di stile di vita, che ci conducono ad essere effettivamente un luogo. Sono convinta del benessere ancora più, della felicità un giorno per tutti. Insomma, è una carta che ce la possiamo giocare bene, anche nei confronti dell'estero, perché insomma anche la cultura, si dice no, la cultura non si campa, invece no, voi siete la dimostrazione vivente che di cultura si vive. Esatto, io sono arrivata in questo incarico da poco più di due mesi, lo sto affrontando con un entusiasmo enorme, forse anche troppo, perché sono veramente motivata e carica, perché per la mia città davvero vorrei impegnarmi al massimo. Al di là di queste considerazioni anche personali, la città di Urbino è effettivamente considerata a livello nazionale un punto di riferimento per la cultura. Lo posso certificare perché siamo inondati di richieste, di progetti per la realizzazione di progetti, iniziative, mostre, rassegne, da tutta Italia e proprio perché Urbino è un luogo ambito in cui essere presenti e dimostrare il proprio lavoro per le tante realtà che si occupano di cultura. Ovviamente cerchiamo di non trascurare mai quelle che sono le nostre realtà locali, in tutte le sfaccettature della cultura e dell'arte, dalle arti visive, alla letteratura, alla musica, al teatro. Io sto cercando davvero di intrattenere rapporti e collaborazioni, anzi intensificarle, le collaborazioni con le grandi enti, gli istituzioni della cultura della mia città, quindi la Galleria Nazionale delle Marche soprattutto, l'Accademia Raffaello, gli oratori, l'Arcidiocesi e poi dare spazio alle tante associazioni, a tutte le persone che dimostrano una grandissima vitalità nel proporre, nel voler fare le cose a cui tengono nel campo culturale. Allora, le idee che ti sei prese sono belle pesantine perché tu hai anche il centro storico, che è un'altra di quelle chicche non da poco. Anno scorso vi siete guadagnati a livello internazionale anche il merito di essere primi in Europa per rapporto cittadini, musei, siti museali, insomma. Quindi insomma, una bella responsabilità anche, no? Metterli a regime tutti questi asset non è facile. Non è facile perché ovviamente solo attraverso la collaborazione tra più enti si può raggiungere quello che magari può essere l'apice nella comunicazione, nella promozione e nella programmazione degli eventi. Allora, lo sappiamo anche noi che siamo di questo settore, si possono fare tante cose, ma se non si comunicano bene e in tempo non lo sa nessuno, non lo sa bene con un gruppo ristretto, quindi fondamentalmente tanto lavoro viene vanificato da una mancanza di un elemento che è fondamentale, che è appunto la divulgazione, la promozione e la comunicazione di una iniziativa di qualunque tipo. Quindi mettere a sistema tutte le realtà è fondamentale e questo si fa attraverso, secondo me, un dialogo e poi una collaborazione che sia anche reale. Ecco, reale e effettiva. Allora, i dati dicono che gli stranieri si sono rinnamorati di questa provincia quest'anno. Secondo te quindi è frutto anche di qualche messaggio che è arrivato oppure si va così a naso? Allora, io faccio una distinzione ovviamente tra quello che è il nostro territorio provinciale e poi ovviamente nel più specifico la mia città. Il territorio della nostra provincia di Peser Urbino è un territorio bello, sano, che davvero offre tante tipologie di offerta, tante tipologie di offerta per il turista, per il visitatore e anche non solo come luoghi, ma anche come attività. Si può passare dall'attività sportiva, che nel nostro territorio davvero ha una possibilità di realizzazione vastissima. Si può ovviamente passare anche ad attività di tipo culturale, come mostre, convegne di vario tipo. La città di Urbino, in particolare, che lo ribadisco, il suo centro storico e patrimonio unesco, ha delle bellezze straordinarie. Poi il centro storico noi lo sentiamo nel contatto diretto con i turisti. Quando anch'io giro per strada, a parte che ho sempre dato le indicazioni su dove si trovino i monumenti, perché è un piacere poter interloquire con le persone che vengono da fuori, però notiamo che prima di tutto notano come la città, il centro storico, sia ordinato, sia ben tenuto, sia pulito e ovviamente questo è il primo impatto. Poi vanno realizzati tanti servizi di accoglienza e anche una mentalità dell'accoglienza che è un più, è un'aggiunta a quello che può essere un risultato che tutti insieme dobbiamo conseguire. Non c'è solo un lato che deve lavorare in un senso. Tutti gli enti, tutte le persone, ma anche il singolo cittadino può contribuire. Può fare il suo. Allora, visto che parlavi di musica, ti faccio vedere una notizia che ha a che fare, vabbè, con Ascoli, Giovanotti, Ospita Sorpresa, Al Memoria, Troiani, Serata Magica, Ad Ascoli, c'è un altro personaggio marchigiano di levatura internazionale, Dardas, Dario Faini, insomma, e quindi, ecco, quando si mettono insieme tutte queste cose, chiaramente questi sono personaggi che hanno una visibilità mondiale e quindi giocarsi anche questi personaggi, visto che parlavamo di musica, insomma, Urbino... Se Giovanotti volesse fare una visita anche a Urbino, casualmente saremmo felicissimi. A parte ovviamente gli scherzi, che le grandi manifestazioni, i grandi eventi vanno programmati e strutturati in una maniera molto seria e dettagliata. Detto questo, è una predisposizione particolare, mia, personale, ma di tanti, che anche Urbino debba un po' concentrarsi maggiormente su una valorizzazione anche del suo lato musicale. Abbiamo avuto tanti artisti, tanti grandi artisti, musicisti contemporanei, ma abbiamo anche strumenti antichi, abbiamo dei festival che si occupano di musica antica e tanti musicisti che raccolgono la tradizione da manoscritti del Rinascimento e la portano avanti come vocazione della loro vita legata alla musica. Quindi c'è proprio uno spettro importante che lega cultura e musica nella città di Urbino. Questo non significa poi che non si possa dare spazio al pop dei giovani, perché abbiamo dei talenti davvero anche molto giovani. Quindi l'idea dell'amministrazione che io sostengo e vorrei portare avanti è quello di creare un grande contenitore nella città di Urbino che dia la possibilità di convogliare tante iniziative di carattere culturale e musicale che faccia bene alla nostra città, ma sia in grado di creare anche una risonanza, parliamo così in termini un po' effettivamente musicali anche, per la gente, per le persone di fuori. Quindi con grande piacere e musica anche al centro della città di Urbino. Perché no? Eventi fa il pari con spazi, con contenitori, l'hai citato prima, con luoghi dove fare. Anche lì bisogna lavorare, perché poi i giovani se non hanno spazi dove potersi esprimere bisogna creargli dei luoghi proprio adatti. Se non ci sono bisogna trovare. Anche questo purtroppo è uno scoglio sul quale spesso gli amministratori si trovano a doversi confrontare. Certo, assolutamente. Adesso non voglio sconfinare nelle competenze di altri colleghi di giunta, in particolare dell'assessore che si occupa delle politiche giovanili, ma il nostro sindaco Maurizio Gambini l'ha già detto e in realtà lo sta già portando avanti. C'è un'idea di creare, di acquistare degli spazi importanti che fondamentalmente, lo dico con l'esperienza da mamma, sono già frequentati dai giovanissimi della città di Urbino, quindi il sindaco in modo molto mirato sta cercando di acquisire gli spazi da dedicare ai giovanissimi e ai giovani. Ci sono luoghi di elezione per i giovani anche in determinate stagioni, le piazze, le nostre strade. Io dico sempre che il nostro centro storico, oltre ad essere di una bellezza inimitabile, è anche un grande luogo in cui i nostri ragazzi possono muoversi e fare le loro prime esperienze di vita ancora in sicurezza, perché nella nostra città la vita è davvero ancora molto vivibile anche per i più piccoli che possono fare le prime esperienze da soli. Oltre a questo si possono dare dei luoghi adatti a loro perché crescano, facciano delle attività costruttive che gli permettono ovviamente di fare sempre maggiori passi avanti nella loro vita. Bene, mi duole ma la necessità da cronista è quella di farvi vedere un po' di cronaca, qui siamo ad Ancona e qui abbiamo a che fare con l'ambiente che purtroppo è sempre considerato un appendice così, tanto che addirittura idrocarburi e oli esausti nel sentino di questa officina, sono partite multe salatissime, 52 mila euro di multa a questi titolari di un'officina, qui vedete i carabinieri forestali del gruppo di Ancona, Tutele e Ambiente che hanno scoperto questo sversamento illecito, perché sversamento illecito? Perché chiaramente vanno smaltiti in un certo modo, smaltirli costa e spesso vediamo girando per le nostre campagne ai lati dei fossi, purtroppo con ferimenti abusivi, soprattutto di inerti, di edilizia, di materiale vario, purtroppo è una brutta pratica che ahimè non si riesce a controvertire. Qui andiamo su un altro sito, Ancona Today, qui si parla di un altro ambito che è quello delle truffe, l'investimento in oro era una truffa, beffato dalla maestra di canto, quindi non è che vogliamo tirare la croce sulle maestre di canto, però questa è la cronaca, vittima un 55enne, questa è pura cronaca di oggi, siamo veramente in mattinata presto, è stata battuta questa agenzia di cronaca. Allora, visto che abbiamo toccato così in quella notizia il tema dell'ambiente, l'ambiente comunque ha a che fare con la salute, con il nostro benessere, l'abbiamo toccato prima, siete anche al centro di un evento che vede il benessere e la salute, insomma, patria del biologico degli anni 70, il buon Gino Girolomoni ebbe questa intuizione geniale, il nostro bio è nato qui, insomma. A Urbino ormai è un appuntamento davvero straordinario e di richiamo per migliaia e migliaia di persone, sta per arrivare il Biosalus, l'appuntamento è il 5 e 6 ottobre e anche questa è una manifestazione che si sviluppa nel centro storico, proprio perché il collegio Raffaello che è in piazza Rinascimento è la parte più centrale della città, ospita la maggior parte degli espositori, delle attività, si può acquistare ma si può anche assistere a una lezione, si può partecipare a una seduta di yoga, si può parlare di riflessologia, insomma si apre un mondo su quello che è il benessere della propria vita e su praticamente anche proprio un'impostazione mentale completamente diversa quella che può essere la nostra vita frenetica di tutti i giorni che ci fa dimenticare come invece l'uomo debba essere e debba tornare al centro. Il Biosalus è un momento non solo di acquisto o di conoscenza ma è un momento proprio anche di introspezione, lo viviamo anche così, ci sono davvero luoghi della nostra città che vengono, anzi quest'anno addirittura agli organizzatori, il comune di Urbino ovviamente sostiene la manifestazione, l'istituto di medicina naturale invece è la vera organizzazione fattiva, ci sono stati anche ampliati dei luoghi, quindi sempre più spazi dedicati alla manifestazione a cui l'amministrazione comunale, però sempre qui non voglio sconfinare nel lavoro che stanno conducendo l'assessore allo sport e l'assessore alle strutture sportive associano la manifestazione street and sport dedicata a tutte le associazioni sportive, quindi diciamo che a Borgo Mercatale c'è tanto sport e tante iniziative, un centro storico più in alto troviamo il Biosalus e poi abbiamo messo anche sempre per volere dell'amministrazione comunale la musica per i ragazzi e quindi diciamo che ci saranno due giorni veramente intensi in cui lo sappiamo viene tantissima gente perché la fama del Biosalus arriva a dei confini enormi, esatto, come promozione, la famosa promozione, l'organizzazione delle attività e poi divulgate, assolutamente una manifestazione che funziona, l'amministrazione la sostiene e cerca anche di inserirsi con altre attività. È molto bello perché come dicevi si affrontano, cioè non c'è soltanto diciamo il cibo ma è proprio la persona al centro del del concetto, tutto quello che ruota attorno alla persona come benessere olistico, benessere poi c'è un festival che io ho conosciuto i primi anni che è stato messo in piedi, sono dovuto fare diversi servizi su e mi piaceva proprio il clima che si respirava già lì dentro Palazzo Raffaello, Collegio Raffaello è bellissimo, le stanze ci si gira, si può fare questo giro del cordone, però è proprio il clima che si respira che secondo me stimola e piace tanto. Sì, infatti quello che mi piace è anche che ci si immergi in un'atmosfera che ci fa riflettere di più, ci fa riflettere su quelle che sono anche, ovviamente anche nuove indicazioni, nuovi studi sul benessere visto da un punto di vista davvero speciale, però è proprio ci si immerge in un'atmosfera che ti costringe ad essere più concentrato su te stesso e il tuo benessere. A fare un'introspezione. Allora prima di far vedere altre cose, anzi no la faccio vedere subito così mi aggancio alla domanda che ti voglio fare, parliamo di post alluvione, post alluvione in questi giorni sono stati presentati dei cantieri nella provincia di Peseo Rubino, soprattutto nell'area nord per quanto riguarda i ponti che si stanno rimettendo in piedi con grande dispendio di risorse, acquaroli, 130 milioni di opere strutturali post alluvione e quindi ecco i progetti che in questi due anni si sono messi in piedi. c'è appunto Misa e Nevola che sono i due corsi d'acqua che purtroppo hanno fatto i disastri che tutti conosciamo e quindi la Bonifica Marche sta mettendo mano a queste opere, c'è l'assessore Aguzzi che vedete qui insieme ad acquaroli e quindi sono una serie innumerevoli, sono oltre 1.000, 1.470 gli interventi di somma urgenza. Tra l'altro poi lo stato di emergenza è stato prorogato per un altro anno quindi questo permetterà di non fermare i processi di ricostruzione che se no sarebbero imbrigliati in meccanismi di burocrazia indicibili e allora perché ho fatto vedere questa cosa? A parte dare buone notizie ma poi perché insomma personalmente ti chiedo tu la politica, il mondo politico l'hai vissuto prima un po' dal di fuori da cronista raccontandolo parlando di di crona che poi l'hai vissuto un po' dall'interno della regione perché sei stato a Palazzo insieme all'assessore Aguzzi, adesso però sei te in prima persona, cosa dobbiamo raccontare noi cronisti di Laro Ottaviani come assessore? Che cosa ti piacerebbe che noi raccontassimo? Ah beh, cosa mi piacerebbe che voi raccontaste è che mi impegno al massimo come ho fatto in tutte le mie esperienze precedenti, questa è proprio la base. Poi dopo speriamo, ovviamente non c'è l'intento mai di rivoluzionare, secondo me soprattutto in un settore come quello della cultura bisogna avere rispetto di quello che è il passato e la storia di una città ma anche rispetto di quelle che sono anche i progetti, le esperienze che si sono create nel tempo, quindi non è il mio stile entrare a gamba tesa come si direbbe nei vari settori che ho affrontato, lo stile è quello di entrare con umiltà e soprattutto con la voglia di imparare e capire e poi quando si è ben imparato e capire apportare sostegno alle cose valide e magari cercare di realizzare qualcosa di nuovo. Questo sarebbe un enorme risultato, un enorme risultato che spero che davvero io mi prefiggo di raggiungerlo con tutta l'onestà e proprio l'impegno che ci si può mettere. Ovviamente non si fa mai nulla da soli, quindi grazie alle persone con cui lavoro, ai collaboratori degli uffici, ai dirigenti, ai responsabili si possono realizzare, ma devo dire che le cose si realizzano anche con il sostegno delle persone, perché quando si fanno le piccole cose e si incontra il cittadino che è consapevole che si sta facendo un lavoro per la città e sostiene l'impegno, allora già si è ripagati. Quando si incontra il cittadino che non è soddisfatto di quello che si sta facendo, si è stimolati, quindi va bene in ogni caso. Ti faccio una domanda un po', faccio l'avvocato del diavolo, faccio il mestiere del giornalista, no, non ti voglio mettere in difficoltà, però mi piacerebbe sentire da un giovane assessore in termini di ovviamente in carico, che cosa ci manca a noi dal punto di vista della cultura per fare quel saltino in più e arrivare dove gli altri sono già arrivati, guardandoci un po' attorno come regioni, senza fare nomi e cognomi, perché alle volte sembra che siamo un po', ci piace un po' darci le frustrate da soli, sembra, no? Non lo so, non sono, ecco, non voglio essere io a dare le lezioni a nessuno, ci mancherebbe, però nel senso che penso che non ci manchi nulla, penso che, ecco, mi piacerebbe, mi piacerebbe che saper fare tutto io, essere in grado di svolgere qualunque cosa io, arrivare al risultato e dire ho fatto, ma non si può, bisogna essere capaci di tessere le collaborazioni, i rapporti giusti, le collaborazioni giuste per lavorare nel modo giusto e raggiungere i risultati più alti. Se si pensa di poter fare da soli è difficile, quindi individuando ovviamente i progetti adeguati, i progetti di valore, anche i messaggi che si vogliono dare sul nostro territorio e sul nostro grande patrimonio culturale, i messaggi giusti, si possono raggiungere davvero dei risultati straordinari. Io ci voglio lavorare, ovviamente anche questo, è un progetto che non penso di fare un grande progetto di cultura per il 2025, penso per il 2026, perché secondo me tutti questi grandi progetti di impatto vanno studiati a lungo e vanno anche meditati, costruiti e realizzati nel modo più meticoloso possibile. In chiusura ti faccio un'altra domanda un po' storto, Pesaro 2025, Capitale della Cultura, ti piace? Ti sta piacendo? Allora, Pesaro 2024. 2024, sì, siamo già... Mi ero persa. No, no, scusate. Noi ovviamente siamo... Avete fatto la vostra parte. No, noi ovviamente siamo dentro il grande... Il meccanismo. Il grande meccanismo. Avremo la nostra settimana della cultura, perché ovviamente Urbino a dicembre, dal 9 al 16 dicembre avrà la settimana che è stata prevista per tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino, in cui ogni comune è protagonista. Noi siamo al termine di questo lungo anno, perché ovviamente Urbino ha una sua caratteristica particolare e perché ci sono progetti comunque da lanciare per il futuro. Anche su quello stiamo già lavorando, ci sono i temi, ci sono i progetti da portare avanti, una settimana intensa. Ovviamente è un contenitore anche questo, è un'idea che va vista anche nel lungo termine. Si è dentro il meccanismo per un anno vero, ma se ne dovranno vedere i risultati anche negli anni futuri. Io credo che sia più quello la vera sfida, mettere a frutto quello che si è accumulato in questo anno, che è il vero anno di lavoro. I risultati dovremo vedere quanto dureranno nel tempo. Ecco, sapevo che vi davi la risposta giusta. Ti ringrazio. Allora, ringraziamo Laura Ottaviani. Avevo qualche migliaio di cose da chiedere, ma il tempo è tirano. Grazie, grazie. Vorrei dire che ritornerai. Va bene, con piacere, sempre. E quindi un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura che ti vede protagonista da Assessore della Cultura e quindi oltre a ringraziarti per essere stato qui, un buon lavoro a te e i tuoi collaboratori. Grazie. Bene, noi chiudiamo qui questa prima parte. Grazie per essere stati con noi. Un po' di pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte di Fatti e Commenti.